Quale teta, pobrecito? La mia cosa! Non togliere le lecce, se le do il teta per un momento. Ti ha riconosciuto totalmente come un mono. Un lecce stavo del mono? Bonito, ora che sei il superstar. Credo che è il lecce del leopardo. Con la mano dentro del vestido. A che le passo. Che tal il arroz? Chierete il controllo? D'accordo.